Con l'omaggio di Raiz, leader e voce degli Alma Megretta, Sergio Bruni, proseguono presso il Conservatorio di San Pietro a Maiella i appuntamenti della prima edizione della rassegna note d'archivio per il miglio della memoria. Proposta e organizzata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania e realizzata con il contributo della Direzione Generale Spettacolo e Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura con la produzione esecutiva della Fondazione Pietà dei Turchini. Lo storico istituto musicale partenopeo è stato la cornice del live che ha visto sul palco con Raiz i musicisti Giuseppe Detrizio, chitarra classica e arrangiamenti, Adolfo Lavolpe, chitarra elettrica, Giovanni Chiapparino, Fisarmonica, Francesco Corrado De Palma, la batteria, Giorgio Vendola, al basso, ma ascoltiamo i nostri microfoni Raiz. Per me che vengo da un percorso musicale sicuramente non classico, ecco, entrare così nel Conservatorio di Napoli che poi è un luogo accanto al quale sono cresciuto perché poi io sono del centro storico e quindi è un posto che conosco, ho sempre guardato da lontano con rispetto e pensare di poterci suonare con un mio progetto è una cosa molto bella. Entusiasta il pubblico presente al concerto, ascoltiamo. È una bella esperienza soprattutto in centro città perché in centro città diciamo sempre un po' non ci sono delle grosse strutture per poter accogliere tante persone e poi la comodità per chi abita al centro è regarsi a piedi con la metro e quindi è una bella cosa. Penso che eventi del genere siano importanti anzitutto perché con la loro gratuità consentono proprio a tutti di poter assistere, conoscere e approfondire anche repertori che non sono solitamente conosciuti ai più. Questi eventi mi stanno dando la possibilità di scoprire dei luoghi che io non conoscevo.